fa vedere quante altre bella scoppa è quella della Befana è quella della Befana la Befana viene in ordine con le stagioni ho il vestito alla romana viva viva la Befana sono la Befana è altissima se ti arrappichi vedi sopra le montagne viva viva la Befana viva viva i levaggi lasciali qui i levaggi lasciali qui i levaggi lasciali lì vedi che questi qui per quello dico di non tagliare i cosi perchè non c'hanno il coso queste balordine qui da appenderle tu sei una balordina questo qui è grosso non si può Regina tu sei una balordina la bella Maria come ha detto quello la ma cosa ci ho venuto in mente di dire anche questo è senza l'ho messo adesso questo qui ci metto questo questo qui ci metto questo e questo dove lo mettiamo allora sono andati un attimo il letargo gli animali torneranno stanno riposandosi perchè è stato notato abbiamo capito ciuffettina che bisognava spostare la capanna di qua perchè i personaggi del presepio devono camminare verso la capanna e invece prima uno mi ha detto ma Davide ma cos'è successo nella capanna perchè stanno andando via tutti e quindi abbiamo capito di scambiarlo lo vuoi? si grazie allora allora allora